Possibile ritorno della neve in pianura padana durante la giornata di lunedì 28 dicembre. Difatti proprio nel corso di Natale Santo Stefano avremo una prima irruzione di aria fredda dal nord Europa verso tutta Italia e i Balcani con un notevole raffreddamento delle temperature anche in Valpadana. Nel corso poi invece di domenica 27 un'ampia circolazione di bassa pressione dalla Groenlandia si tufferà verso la Francia, verso il Regno Minito e richiamerà correnti di libeccio da sud o sud ovest in quota verso l'Italia con il ritorno di precipitazioni. Attenzione perché proprio tra domenica sera e la giornata di lunedì 28 stante la presenza in pianura padana di aria fredda sul Gattino Padano prevediamo nevicate a quote molto basse a tratti però in pianura sulla Valpadana centro-occidentale quindi tra Lombardia e Piemonte. tutti gli aggiornamenti, gli ulteriori sviluppi scaricando l'app di Trevi Meteo.